Eccoci qua, di nuovo buon sabato a tutti, va un po' meglio, quindi Katia ha riesumato delle vecchie scatole, dove ero convinto di avere delle cose che possono servirmi e cercavo questo strano pacco, questo strano pacco, sono due tavolette di legno che ti archiviano un tesoro, chi si può vedere, non ve le apro perché è un'operazione delicata, questo è oro zecchino, oro zecchino in foglia, non lo tocco, ripeto, è una cosa delicata, come lo tocchi si disintegra, sono fogli così fini, come lo tocchi si disintegra e non servono più a niente, serve per dei progetti che ho in mente, ti ricordavo davvero e ho insistito perché Katia ha riesumato le vecchie scatole, però ho trovato anche un'altra cosa, abbiamo trovato un'altra cosa, una cosa che a molti, specialmente della mia età, della nostra età, farà piacere vedere, se ci riuscissi proverei, non ce la faccio, non ce la faccio, va bene così, è la memoria, è la nostra è la mia età, 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 Grazie a tutti.